Il preside non riconosce la malattia professionale alla collaboratrice scolastica e viene preso a Ceffoni nel suo ufficio. È accaduto martedì mattina a Bianco all'interno dell'Istituto Comprensivo Macri, dove il preside, Sebastiano Anatoli, di 63 anni, è stato affrontato da due individui che gli hanno messo a soquattro l'ufficio, rompendo quattro e su pellettili e lasciandogli, anche sul volto, il segno di Ceffoni ben assestati. Il dirigente ha sporto subito denunce ai carabinieri, i quali hanno individuato e denunciato a piede libero per percorse e danneggiamento, entrambi con l'aggravante di aver agito contro un pubblico ufficiale, quale per legge, un preside scolastico nell'esercizio delle sue funzioni, un trettontenne figlio della collaboratrice scolastica. Sono in corso indagini da parte della Compagnia di Bianco per risalire all'identità della seconda persona. La vicenda non ha lasciato indifferente all'ambiente scolastico e nemmeno le comunità dei paesi ricompressi dall'Istituto Bianco Samo Sant'Agata del Bianco, Caraffa del Bianco e Casignana. Ieri infatti si è riunito d'urgenza un consiglio di istituto straordinario aperto che ha visto la partecipazione, tra l'altro, di tantissima gente venuta a sostenere il preside. Oltre ai docenti, infatti, in prima fila anche il vice sindaco di Bianco Pasquale Ceratti, il sindaco di Samo Giovan Battista Bruzzaniti e il vice sindaco Gregorio Bruzzaniti, il sindaco di Sant'Agata del Bianco Stranieri e il sindaco di Casignana Antonio Crinò, il quale, anche presidente del consiglio di istituto, il sindaco di Platì Rosario Sergi, il preside aggredito, ha la reggenza anche dell'istituto di Platì, eppure il presidente dell'associazione Civitas e Solis, Franco Mollace, e il presidente dell'associazione pensionati di Bianco, preside Sganga. Il parroco di Bianco, padre Bruno Cuzzilla, ha portato il messaggio del vescovo di Locri Gerace, Francesco Liva, la vila aggressione, al dirigente scolastico, professore Sebastiano Anatoli, cui esprimo la mia vicinanza e solidarietà, mi addolora tanto, si legge nella nota, ad essere aggredito, non è solo il preside, ma tutto il mondo della scuola, che è palestra di umanità e che non può lasciare spazio all'arroganza e alla prepotenza di alcuno. Il parroco di Bianco, padre Bruno Cuzzilla, ha portato il messaggio del vescovo di Locri Gerace, Francesco Liva, la vila aggressione al dirigente scolastico, professore Sebastiano Anatoli, cui esprimo la mia vicinanza e solidarietà, mi addolora tanto ad essere aggredito, si legge ancora nella nota, non è solo il preside, ma tutto il mondo della scuola, che è palestra di umanità e che non può lasciare spazio all'arroganza e alla prepotenza di alcuno.